Ciao ragazzi di nuovo insieme, oggi devo essere brevissimo perché purtroppo ho tantissime cose da fare ma voglio in parte esaudire una richiesta, anzi molte richieste, che sono relative al discorso timing, ritmo e tutto quello che è la parte ritmica dello studio allora oggi vi lancio un'idea che ovviamente non è mia, un giochino diciamo divertente per poter studiare appunto senza annoiarsi troppo con il nostro amato e odiato metronomo ok, quindi gli esercizi che ora vi vado a mostrare servono ovviamente per migliorare il nostro timing e anche per restare concentrati quando il nostro amico si spende ovvero preparato, ma ci sono delle app che vi scrivono in pdf, tra l'altro è uscita una nuovissima di Scott Devine, famoso di data online proprio sua, app sua, c'è anche questa funzione che è quella di creare appunto una traccia direttamente con telefono, si può fare in mille modi e decide una velocità, quindi e ogni, per esempio, due battute con clic suona tutti i quarti poi una battuta che suona solo l'uno e il tre oppure due battute che suona solo l'uno e il tre poi riprende fino ad aumentare il livello di difficoltà, ovvero fare una battuta con il clic sull'uno poi una battuta senza niente e noi continuiamo a suonare i quarti, gli ottavi, quello che volete e cercare di tornare poi sul clic successivo a tempo quindi precisi sul clic si può fare, ovviamente come sempre, ci si può veramente sbizzarrire cambiando velocità ricordatevi che qui più si rallenta e più la difficoltà aumenta perché c'è più spazio, più intervallo di tempo tra un clic e l'altro quindi prenderlo è ancora più difficile se invece il clic va velocissimo lo levo per due battute, però le due battute sono talmente veloci che è più semplice tornare a tempo quindi più lo rallentate più aumenta il livello di difficoltà io ho preparato una piccola traccettina però ripeto, scaricate le app, fate prima e voglio farvi vedere come utilizzo io questo metodo di studio mi è venuto un momento che l'altro giorno ho visto un video di un'amica Sara, che saluto Sara con l'h se mai mi guarderà comunque, ottima violinista andatela a vedere non so il cognome che faceva un video molto simpatico su Instagram nel quale appunto utilizzava un metronomo con questo diciamo con questo sistema del togliere i battiti lei però con lo schiocco e le dita infatti si può fare in mille modi non si suona il basso, ora ho preso il basso però si può fare cantato ti, ti, ta, ti, ta si può fare come volete lei usava questo simpatico schiocco delle dita e tornava precisa a tempo io non ci riesco anzi, ora mi metto alla prova vi faccio vedere come appunto come lo faccio io in modo più semplice una nota sola però ripeto si può fare a ottavi invece che a quarti si può fare suonando le scale si può fare battendo colpi su bass si può fare attestate nel muro come volete può essere un'idea per studiare divertendovi e magari fare qualche diciamo qualche gara con voi stessi e cercare di migliorare sempre di più questa cosa io ad esempio arrivo avanti cioè arrivo prima del battere in genere questo è segno che tendo ad anticipare tendo ad andare avanti comunque ognuno poi vedrà su se stesso cosa gli succede andiamo a vedere cosa succede a me se sono bravo o no e poi ci vediamo al prossimo video ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.